10 luglio 1871 nasce a Parigi Marcel Proust, l'autore di A la recherche du temps perdu, uno dei libri più tradotti e più importanti della letteratura europea del Novecento. Proust descrive in maniera minuziosa e dettagliata i vizi e le virtù della società del suo tempo, mettendoli in relazione alla sua struggente sensibilità. Marcel Proust è anche lo scrittore della memoria, capace di rievocare ricordi attraverso l'uso dei sensi. La sua memoria involontaria è il cardine su cui si sviluppa tutta la sua opera letteraria. Proust muore nel 1922. Dopo circa 15 anni di vita mondana,